40 ore di diretta streaming, 30 speakers, tanti ospiti e programmi originali. Tutto questo è direttamente Smart Life, il festival della cultura digitale raccontato da Radio FSC Unimore. E eccoci qui, siamo tornati live, qui a Spazio F, qui a Fondazione Modena, qui ai microfoni di Radio FSC Unimore. Allora, salutiamo innanzitutto chi ci ha preceduto, Modena e Mersa, una rubrica di Francesca Bruschi e Giorgio Ragusa, e continuiamo questa live su Twitch e do il benvenuto oggi a Giovanni Parlanti. Grazie Alessandra, ciao a tutti, ciao. Allora, questo programma che io lo chiamerò e lo chiamerò sempre Popopera, tu l'hai chiamato Popopera, esatto, però ognuno la interpreta come gli pare, ognuno la interpreta come vuole. Questo programma fa parte di un programma ben più grande, direttamente Smart Life, il programma di Radio FSC Unimore, che racconta appunto che è la voce dello Smart Life. Di questo festival, che è cominciato oggi. È cominciato oggi, è la prima giornata questa. E sta andando molto bene, mi sembra. E sta andando alla grande, io sono elettrizzata, me li sto perdendo, sono elettrizzata. Allora, noi vi faremo accompagnare fino alle 17.15, quindi dato il poco tempo, direi, di addentrarci subito nel programma. Esatto, di cosa parleremo oggi Alessandra? Esatto, come ti è venuto in mente, perché è sua la colpa, è sua l'idea, come ti è venuto in mente questo programma? Ma allora, innanzitutto spieghiamo un po' il nome del programma. Pop opera, per cosa sta? È una parola macedonia, diciamo, che mette insieme due parole, ovvero popolare e opera. Opera si intende all'opera lirica. Quindi rendere un'opera lirica popolare, accessibile a tutti, soprattutto il nome dell'opera, che vedremo è entrata nel linguaggio comune di tante opere, ormai la sentiamo, lo vediamo nei dizionari, come l'esempio Don Giovanni, no? Se vai su un dizionario, sei un don Giovanni, l'espressione, esatto, si dice, sei un tomber de fam, poche parole, esatto. E il Don Giovanni era proprio una figura operistica dell'opera di Mozart centenaia d'anni fa. E vediamo proprio come è entrata... Del linguaggio comune. ...la usano tutti ormai. Questo è peggio di quando mi hanno detto che Babbo Natale non esiste, perché è assurdo pensare che è un'espressione che uno potrebbe associare anche un po' a un atteggiamento goliardico, invece è stato, cioè, risale proprio a Mozart. Esatto, a Mozart che a sua volta si era ispirato al dramma di Molière, poi in realtà la cultura... Tutti si sono ispirati a qualcun altro, è difficile che qualcuno abbia avuto l'idea originale, è tutta una citazione, un rimando, un'influenza, che è bello, perché poi rende la cultura una rete, no? Assolutamente, assolutamente. Però la parola sulla quale oggi ci voglianzo fermare è una. Esatto, oggi parleremo, oh, l'urlo di tamburi, della parola bohem. Bohem. Che già, a te cosa ti viene in mente appena dico bohem? Allora, se io proprio ti dovessi essere sincera... A bruciapelo. Boh, l'espressione che ti direi proprio è boh... Boh. Cioè, questo, proprio questo. Però poi, se dovessi dirti, è sicuramente un movimento francese, lo deduco. Esatto, già, la parola dice, ma sarà francese sta parola, suona bohem. Qualcosa di francese. Esatto, effettivamente non hai tutti i torti, perché la parola è effettivamente francese e la traduzione letterale di bohem sarebbe boemo. Ok. Che, appunto, il bohem, chi è? Ecco, lui che viene dalla Bohemia. Dov'è sta Bohemia? Ecco, non me lo chiedi, non mi fa fare figli. No, attualmente potremmo dire che la Bohemia è la parte occidentale dell'attuale Repubblica Ceica. Però, in realtà, se dovessimo parlare di storia, dobbiamo risalire alla guerra dei Trent'anni. Facciamo un piccolo recap, un piccolo ripasso. Guarda, i Trent'anni cattolici contro protestanti, o per meglio dire, riformati. Ok. E in quella zona, nella Bohemia, quindi l'attuale Repubblica Ceica, ripeto, c'era questo conflitto e purtroppo tanti protestanti sono dovuti espatriare, oppure convertirsi al cristianesimo, al cattolicesimo. e dove spatriavano sono andati quasi tutti, insomma la gran maggior parte, in Francia. Pensa tu. Pensa tu a Parigi, perché aveva, sai, Parigi aveva magari una mentalità già più aperta e... Doveva poter trovare rifugio. Esatto, e cercare un rifugio un po' all'Università La Sorbona di Parigi. E praticamente nacque molto spontaneamente che i francesi, gli studenti, iniziarono ad imitare il modo di vestirsi, l'atteggiamento, l'uso e i costumi di questi boemi. E quindi un po' bohème. Ok, quindi nasce proprio, cioè è un pochettino lontana da una concezione che vuole avere dell'ideologico, ma vuole avere più una rottura, possiamo dire? Sì, oggi, guarda, se vai sul dizionario, perché poi c'è anche... Una definizione. Io ho cercato sulla Treccani, bohème mi dà proprio come definizione, insomma oggi ha preso un po' questa concezione di vita anticonformista e disordinata, tipica soprattutto di artisti e poeti poveri. E la voce bohème è divenuta comuna attraverso l'opera, questo poi lo vedremo più tardi, ne parleremo. Comunque oggi sta per proprio vita anticonformista, colui che rifugia un po' alla... Quello che vuole rompere gli schemi. Esatto. Vuole andare contro. L'artista che non si identifica con la società e... E si è margina. Esatto, o viene marginato. O viene marginato. E questo, ne parlavamo prima, forse potrebbe essere proprio la differenza tra dandy e bohème. Cioè il dandy è quello che arriva ad un punto di rottura, perché non ce la fa ad adattarsi ad una società di cui ripudia gli ideali, i costumi, le idee. E quindi si auto-emargina, arriva a diventare un outcaster, scusate l'inglese, però si auto-emargina. Il bohème invece è uno che vuole rompere gli schemi, vuole romperli, però lo fa nella società. Cioè lui resta nella società. Anzi, il suo modo di vestire, che poi vedremo insieme qual è, perché è un modo di vestire particolare, è uno dei segnali di dire, bene, io sono in questa società, però sono diverso. Esatto. Tanti erano anche poi figli di gente benestante che rifiutavano il denaro e dicevano basta, voglio condurre una vita povera, una vita all'insegna dell'arte. Esatto, una povertà volontaria. Volontaria, bravissima. Pensa tu, questo è uno delle peculiarità del bohème. Esatto, cose che oggi ci sembrano... Assurde. Assurde. Andiamo a chiedere in giro, povertà volontaria? Cosa? Esatto, potremmo fare un censimento, un sondaggio. Allora, però la parola bohème, bohémienne, noi pensiamo, giustamente, guerra dei trent'anni, quindi risale a molto tempo fa e subisce delle declinazioni nel tempo veramente diverse. Certo. Allora, non voglio fare qui spiegoni, innanzitutto perché sono una grande inesperta in materia. Ah, ma anch'io, qui si fa così, per diletto, dai, ci dilettiamo a parlare. Allora, azzardo qualche data. Può essere che tiriamo anche degli sfondoni, ci perdoneranno. Scusateci, in anticipo. Allora, 1830, pensa, è una delle prime volte in cui la parola bohème e bohémienne viene proprio scritta. In letteratura. In letteratura, esatto, leggo così ho la libertà di rivolgermi al computer. È un'opera in quattro quadri di Giacomo Puccini, ispirato al romanzo, come dicevi tu, ispirazione su ispirazione, al romanzo di Henry Mugère. Esatto. E quindi viene raccontata, cioè di cosa si parla, viene raccontata la storia d'amore di giovani artisti poveri. Esatto. Che non hanno nulla, hanno l'amore, che sembra essere tutto. Hanno l'amore e l'arte, sono tutti artisti o filosofi. Esatto. Spesso digiunano, spesso devono superare ostacoli come una povertà volontaria che si inducono. Questo perché? Per rompere con lo schema della società. Questo era il fine. Cambio mirino, ma non di tanto, per dimostrarti quanto ci allontaniamo anche dalla Francia. perché, abbiamo detto, nasce in Francia e 1830, ok, con Puccini che si ispira ad un autore francese. Esatto, di Mugère, del romanzo. Pensa un po', la troviamo anche in Russia. Pensa un po'. La troviamo con Anton Chekhov. La fredda Russia. La fredda Russia. Con Anton Chekhov. Esatto. Io ho studiato russo, eh. Allora, che me lo devi far dire a me? Ti siamo accordati prima? Questo lo dico io, questo lo devi dire tu allora. No, no, dai. Il gabbiano è un dramma famosissimo anche. Per noi italiani è un dramma, pensate che per i russi è una commedia. E non voglio spoilerare, però veramente ci sono poche risate. Diciamo che la letteratura russa non è tutta questa rosa e fiori, via. Il morto ci scappa. Sempre, sempre. Come nelle opere liriche, tra l'altro. Quindi vedi che tutto poi... Tutto torna. E perché qui si parla di Bohème e di Bohemienne? Perché Chekhov in Russia andava a parlare nel mille... Adesso non vorrei dire subitaggini. Nel 1895, cioè siamo verso la fine dell'Ottocento. Fine del XIX secolo. Esatto. Parla perché Nina è una ragazza, una ragazza come noi, cioè della nostra età, vuole diventare un'artista. E che succede? Che la mamma, non ritenendola in grado di poter aspirare a questa carriera, dice, sì, vabbè, ma dove vai? Vuoi andare a fare la Bohèmeienne? Cioè, glielo dice a mo' di... Dove vuoi andare? Vuoi andare a fare la capricciosa? Vuoi andare a fare quella che si ribella ad un lavoro un po' più serio? E quindi potremmo aprire una grande parentesi tra lavori seri e l'artista. Esatto. Quindi è un po' con una concezione negativa. Esatto. Il Bohèmeienne, sì, quello che... Esatto. E quindi a testimonianza del fatto che si sposta, è una parola che cammina dalla Francia alla Russia. Eh sì, eh sì. All'Italia. All'Italia. Anche con Puccini. Con Puccini, esatto. E lei è un cavallo. Perché dobbiamo chiarire questa cosa, come è nata l'opera. Quest'opera che poi, diciamo, che ha reso un po' questa parola celeberrima, no? E viene proprio da una sfida, pensa te. Cioè nel 1896 Puccini dice a Leon Cavallo, ora magari non proprio così, però facciamo una sfida. Facciamo un'opera, vediamo chi la fa meglio. Ok, sfidamose come si chiama. Sfidamose. Sfidamose. E facciamo questa Bohème. Chi la fa meglio, vediamo, te o me. Fatto sta che l'opera di Puccini è ancora fra le più popolari al mondo. Quella di Leon Cavallo, ma io non lo so, non ha avuto mai un gran successo. L'avete sentita? Però vabbè, dai. Però comunque, appunto, magari questo ha stimolato Puccini, la sfida l'ha stimolato a creare una cosa di grandioso, insomma. Esatto. E poi la parola Bohème, Bohémien, ritorna nel 1975, quindi ha attraversato veramente tutto il secolo dell'Ottocento, tutto il Novecento. E in che paese andiamo? Nel 1975 sfonda nella musica. Ah. Sfonda nella musica. Perché abbiamo la Bohème en Rhapsody. La musica pop, quindi, proprio, popolare. I Queen, Gran Bretagna. Esatto, Gran Bretagna, Freddie Mercury. E questo crea uno scalpore assurdo. Ah. Perché? Perché questo testo è come la commedia russa, cioè non è un testo proprio tanto sereno. Si parla, Freddie canta di un omicidio. Ah, è vero. Mama, just kill the man. Esatto, esatto. Ah. Non so se si possa cantare. Hai ragione. L'ho un po' così, dai. Non è successo nulla. Però quelle sono le parole, esatto, sì. Cioè, si canta proprio di un omicidio e di questo figlio che urla sensi di colpa per aver tirato giù il grilletto e per aver ucciso quest'uomo. E poi le interpretazioni su questo testo sono state veramente tante. Una parte vuole raccontarla come il coming out. Chiedo ancora scusa per l'inglese. Il coming out di Freddie Mercury, che aveva ucciso l'eterosessualità. Ah. Quindi quella persona, l'altra persona sarebbe stata l'eterosessualità. Premettendo che anche Queen non hanno né favorito né mai smentito una delle due versioni. Ok, hanno lasciato un velo di mistero. E l'altra interpretazione vuole dare a questo testo un significato un po' più filosofico. Cioè lo paragona addirittura a Camus. L'étranger. Oggi international, eh? Oggi international. Torniamo alla Francia. Esatto. Torniamo alla Francia, allo straniero. Perché? Io l'ho letto anche questa grande commedia. L'étranger perché? Perché le prime parole che si leggono sono dello straniero, appunto il protagonista, il quale dice è morta mia mamma, non mi ricordo manco quando, non mi ricordo come. Ah. Cioè proprio così. Esattamente. Un passant. Ah, esattamente. E poi in realtà, durante tutto il libro, si scopre che si parla di una crisi esistenziale. Stiamo parlando di Camus, stiamo parlando di un filosofo esistenziale, esistenzialista degli anni del Novecento. Quindi non poteva limitarsi a mamma, non mi ricordo quando è morta. Eh no, certo. E quindi si parla proprio di questa crisi sostanziale, di questo urlo che sembra riemergere dagli acuti di Freddie Mercury. Ah, vedi. Eh, ci ho detto anche questa, sì, sì. Ma ti vedo preparata. Eh, sì. Comunque rimane questa cosa del bohémien mistero. Esatto. Anche il queen, anche la struttura proprio della canzone, no? Io sapevo che le la bocciarono all'inizio a casa psicografica perché gli dissero è troppo lunga sta canzone, non va. Esatto. E invece voleva rompere anche loro con gli schemi, volevano fare qualcosa di bohémien, via. Esatto. Oggi abusiamo un po' di questa parola. Esatto. Però, sì. E tu mi dicevi, no? Fisicamente, non tanto fisicamente, a livello proprio di abbigliamento. Sì. Sono, cioè, adesso noi stiamo vedendo a livello più che altro di messaggio, di concezione, di idea, ma anche a livello di abbigliamento traspare ciò che stiamo dicendo. Guarda, io c'ho una lista con i fattori per vestirsi bohémien. Ve lo dico. Così almeno domani vedremo a giro gente vestita a bohémien. Allora, innanzitutto devi scegliere capi di abbinamento di una taglia più grande e dalle linee morbide. Ah, una taglia più grande. Sì, o anche due. Anche due. Più grande, deve essere leggero, largo. Devi stare comoda. Esatto. Perché? Perché la libertà e la leggerezza sono due fattori chiave per sfoggiare uno stile bohémien. Ok. Quindi leggerezza, libertà, larghezza. Un po' di freddo pure, no? Che c'hai sta maglia larga e ti entra tutta... No. Ma non lo so. Ha fatto gonnelloni, tuniche, maglie leggere. Tutto leggero, però si ha ragione. Effettivamente l'inverno... Forse deve uscire la stagione anche invernale. Questo forse è esatto. Forse è uscita la stagione estiva. Esatto. E poi cerca, devi cercare i vestiti di seconda mano. Esatto. Che ora usa tanto quello vintage. No, il famoso vintage. Ora usa tanto. Ma è tornato di moda quello che prima dice No, ma ormai non è più di moda. Beh, invece è proprio adesso che è tornato. Esatto, esatto. Quindi... E poi se sai cucire, potresti creare tu stessa dei vestiti usando stoffe e stampe che ti piacciono. Te sai cucire? Ecco, no. E allora, mi spiace, ma dovrai ricorrere ai gonnelloni o ai vestiti di seconda mano. Ricorrerò ai gonnelloni e ai vestiti di seconda mano. Io, purtroppo, ti dico, purtroppo sono molto freddolosa. Quindi attendo novità sulla stagione autunnale e invernale. Però anche il maglione fatto con la lana della nonna, magari... Ah, anche il maglione fatto di lana, purché sia bello comodoso. Sì, largo. Largo. Con l'idea della leggerezza, della libertà. E torniamo un attimo alla musica, perché mi è venuto in mente ora, non possiamo non citargli, la canzone... Bravo. ...di due, tre anni fa, quattro, non mi ricordo bene, dei Pinguini Tatici Nucleari. Band che ora sta spopolando. Anche loro hanno un brano chiamato proprio Boimienne. Esatto, dell'album Aya. Ah, ecco. Non ci siamo fatti male, anche perché non rimanevo così inespressiva, però l'album proprio si chiama Aya. E una canzone che tra l'altro ha abbastanza spopolato è Boimienne. Esatto, andava proprio in radio. E i Pinguini Tatici Nucleari sono una band che nel 2020, se hanno più hanno meno, non voglio sbagliare, e dopo aver, insomma, esser saliti sul palco di Sanremo, hanno spopolato, hanno sbancato. E anche loro parlano di Boimienne, pensa te. Anche loro parlano di Boimienne. Sono tornati alla guerra dei trent'anni. Esatto, però loro lo fanno in chiave moderna. E su questo ho un aneddoto che è molto, molto carino. Allora, ad un'intervista, il cantante dei Pinguini Tatici Nucleari stava rispondendo ad una serie di domande. Allora, la giornalista ad un certo punto chiede ma voi in una canzone, intonata ad un certo punto, tu mi hai insegnato la differenza fra le ciliegie e le amarene. Ma chi è questo tu? E poi qual è questa differenza? Allora, il cantante dice guarda, in realtà non ne ho idea. Non so né quale sia la differenza né tantomeno chi l'ha insegnata a chi. Ma ricevendo delle lettere dai miei fan una professoressa mi scrisse questa lettera e mi disse guarda, io lo so che tu non mi leggerai però io te la voglio dire questa cosa. Sarebbe bello se tu inserissi nel testo di una vostra canzone questa frase tu mi hai insegnato la differenza tra le ciliegie e le amarene perché è una frase che mi lega ad una relazione d'amore che io ho avuto. Ah, è romantica quindi. Esatto, e alla quale io do particolarmente significato. E i pinguini tattici nucleari l'hanno letta e l'hanno inserita in una canzone. E questa cosa è bellissima perché quando poi la giornalista ha chiesto ma quindi qual è questa differenza? Lui ha detto non lo so. Non lo so. È una verità che io ho riportato, l'ho presa, l'ho impacchettata, l'ho inserita in un testo della canzone e la capiranno solo quei due che hanno vissuto quella relazione e nessun altro, nemmeno io, che la canto. Pensa a te. E questo è l'atteggiamento oggi dei pinguini tattici nucleari in chiave bohemian. Ah, sì, potremmo dire questo. Adesso ti faccio una domanda, un po' personale. Aia, aia. Ma tu, ti senti un po' bohemian oggi? Ah, mamma mia che domanda. Ecco. Ma diciamo che mi affascina molto questo del bohemian, cioè questi che lasciano tutto per dedicarsi all'arte, all'amore e se ne fregano del capitalismo, di tutte queste cose frivole, poi alla fine effettivamente vanno un po' all'essenza di cos'è la vita, no? E quindi mi affascina molto. Vorrei sperimentarlo, però non lo so sul coraggio. Eh, grande parole hai detto. Coraggio, è una grande cosa. Bisogna vedere, cioè oggi sai, è un po' anacronistico. È vero che oggi va molto di moda l'essere anticonvenzionale, no? Esatto. Cioè chi non va di moda è di moda. Esatto. Quindi è un po' un cane che si morda la coda. Adesso siamo... L'essere anticonvenzionale è quasi l'essere normale, diciamo tra virgolette, se si può bisogno di questo termine. Quindi, ma non lo so. Se uno si dedica magari all'arte, alla sua passione, io lo vedo così, dai, uno si deve buttare in quello che gli piace fare. Assolutamente sì. Sono d'accordo anche io, cioè, il coraggio è una cosa che oggigiorno ci serve, e questo ci non intendo a tutti quanti, intendo soprattutto a noi giovani, ci serve tantissimo, vogliamo sfondare tutti i muri, però non è che non li abbiamo i martelli, li abbiamo, ma dobbiamo saperli usare, non contro di noi, ma contro lo sessuolo comune. Bello, bello. E noi un po' attraverso questa radio, dai, un pochetto ci proviamo. Siamo tutti giovani e portiamo un po' la nostra opinione, le nostre idee. E volevo anche dire questa cosa, che con questo programma la mia intenzione era anche di... perché poi si parla di Smart Life Festival, dove è? A Modena. E quindi io volevo, certo, parlare di Smart Life Festival, l'umanismo, cultura, ma anche celebrare un grande cantante d'opera di Modena, che è Pavarotti. Pavarotti, sì. E quindi, insomma, dovevo citarlo, ecco, perché non si può parlare d'opera senza dire il suo nome. A Modena. Poi a Modena, eh, dai. No, sarebbe una grande ingiustizia per Pavarotti. Esatto. E poi, allora, a sto punto, citiamoli tutti. Vai. Tanto, allora, il territorio emiliano pullula e in provincia di Parma nacque Verdi, altro grande compositore. Invece Puccini, quello che ha fatto la Bohème, dobbiamo dire, ahimè, per gli emiliani. Però, ben per me, perché su toscano era proprio lucchese. E quindi toscano, esatto, fatemi essere un po' patriota, in chiusura, così. Però, sì, devo dire che l'Emilia per la musica c'è molto. C'è, è presente, sì. Allora, noi abbiamo fatto questa disamina. Un excursus. Su Bohème e Bohème. Camus, Chekhov, Pinguinitatici Nucleari. Di tutto e di più. Puccini. Spero che non vi siate persi in questo... Nei reticoli della cultura. Dunque sì, però anche se vi siete persi, oh, vi posso dire che è bello perdersi. Bello perdersi, brava. Che bello perdersi. Che bello perdersi. Continua, in live, Twitch, qui, proprio a Spazio F, qui in Fondazione Modena, via Emilia 283, per questo Smart Life Festival. Siamo al primo giorno, ne mancano altri due. Mamma mia. Noi siamo qui fino a mezzanotte. Perché non farci compagnia? Bravo. Spero di averne fatta... Che ne abbiamo fatta entrambi un po'. Speriamo, speriamo. Un po' di leggerezza. Assolutamente. A questo punto seguite il prossimo programma, uno sport sempre più smart. Buon festival. Buon festival. Buona radio. Buona radio. A tra poco. Rimanete connessi. 40 ore di diretta streaming. 30 speakers. Tanti ospiti e programmi originali. Tutto questo è direttamente Smart Life, il festival della cultura digitale raccontato da Radio FSC Unimore. perché prima era un po' di qui... La cultura digitale raccontates.